È diventata la foto simbolo della tragedia a corsa ieri sera quando Adriano Canzian, 75enne di San Vendemiano, è stato travolto e ucciso insieme ad uno dei due cagnolini che stava portando a passeggio da un mezzo di soccorso in corsa. L'altro cagnolino sopravvissuto a vegliare sulla salma. Non l'ha visto secondo me, perché non ha frenato. Noi non abbiamo sentito la frenata come il solito, per cui sentiamo sempre frenate e colpi. Le sirene spiegate, i lampeggianti accesi, l'ambulanza che ha travolto e ucciso Adriano Canzian era in servizio di emergenza, un contesto che esonera il mezzo dal rispetto di obblighi e limiti relativi alla circolazione, così recita il codice della strada. Sulla tragedia a corsa ieri sera in questo punto di via 24 maggio la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. C'era la nebbia, ieri sera una pioggerellina fitta, l'uomo seppur sulle strisce ha attraversato la strada. Ha preso un colpo forte perché le due scarpe sono volate e in parte della strada c'era un cane morto e le scarpe. A tradirlo e costringerlo ad attraversare, nonostante l'arrivo dell'ambulanza, potrebbe essere stato uno dei due meticci che erano con lui spaventato dal rumore delle sirene, lo stesso che poi rimarrà ucciso insieme a lui nell'impatto. L'altro cagnolino, eccolo in questa immagine sopravvissuto, lo ha vegliato fino all'arrivo dei soccorsi. L'altro cane bravissimo, era proprio seduto e stava sempre lì. Infatti faceva senso, mi ha un po' commosso il cane. Canzian, geometra in pensione, era rientrato cinque anni fa dalla Romania dove era andato a lavorare. Papà di due figli, viveva con la seconda moglie qui, a pochi passi dal luogo dell'incidente via Palladio, dove il comune è già quello di San Vendemiano. Con la sua compagna condivideva l'amore per gli animali. Questo, a passeggio con lei questa mattina, è il terzo meticcio che ieri sera era rimasto a casa. Era stato Canziana a salvare proprio dall'incidente il cagnolino sopravvissuto, lo aveva curato e tenuto con sé. L'inchiesta, aperta come atto dovuto, ha consentito di eseguire i primi accertamenti tecnici. Ad eseguire i rilievi di legge, la postrada di Vittorio Veneto raggiunta poi da una volante del commissariato di polizia di Conegliano. Non è stata disposta l'autopsia sul corpo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, tre in quel punto, saranno decisive per capire che cosa abbia spinto la vittima ad attraversare la strada mentre un mezzo di soccorso stava sopraggiungendo.